momento topico tutti a colazione ognuno ha il suo piattino si tranne che qualcuno sempre rompe l'anima all'altra Alfonsi Oscar è il terzo piatto nel terzo posto diverso amore Ciccio Ciro ha finito la pappetta ma Ciro va a andare a vedere nell'altri pietti che trova amore lui è il cosiddetto sette con asce ha una velocità di pappa impressionante bello ciao Kira lui è bomba e lui è uno degli ultimi arrivati Alfonsino che è molto bello Ciccio mangia ma è quello da sette che nasce vieni sette che nasce aspettiamo un attimo che il giro dei piatti sia completato intanto si fumiamo una sigaretta